Porco di la frenzia intollerabile! Ammazza! E' quello? Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi vi spiego come trovare questo incantesimo della frenzia intollerabile Dobbiamo dirigerci in questa zona Mi raccomando, questo è il posto dove andare Ai campi di nevi consacrate Molto semplice e sbloccato Perché questa è la via per andare all'albero sacro Io per fortuna ho fatto anche un video Una guida su come arrivare qua Quindi prendere quelle parti del medaglione E andare al montacarichi Ora, seguitemi in questo lunghissimo viaggio Durerà pochissimo questa parte Ma è tanto per farvi capire dove si trova Perché se andate in quel posto dove ho marchiato Cioè ho fatto il cerchio sulla mappa E' quello il posto dove andare Se trovate delle rovine Lì c'è anche un C'è anche una stanza Quindi stanza segreta là sotto Un sotterraneo Andate là sotto e aprite quel baule All'interno di quel baule Troverete la frenesia Molto semplice I mostri qui sono difficilissimi da sconfiggere Vabbè Più che difficile Non muoiono Ecco Là ci sono pure i guardiani Tanto si è capito già tutto Perché quelli Si mettono Cioè ci si toccano la testa E cominciano a urlare Come pazzi Ah ma io lo odio quando fa così Veramente quando si incastra tra i personaggi C'è la collisione dei personaggi Ma quando Cioè invece quando loro cominciano a usare la lancia Le armi Cioè prendono l'arma E attraversano i muri Cioè quello non c'è effetto di collisione Tra la spada e i muri Solo tra i personaggi Mannaggia Mannaggia Ok ragazzi abbiamo Quasi finito Questo è il posto Cioè proprio qua E qua vicino C'è questa rovina E quindi noi dobbiamo Entrare all'interno Però dobbiamo usare la capretta Capito? Madonna mia Sti cosi schifosi Che per fortuna muoiono subito subito Là oi? Qui? Eh Chiamo il mio me stesso Per farlo divertire un po' Avete visto la stanza segreta là sotto? Dobbiamo salire qua Qui eh? Minchia lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ma che palle Ecco scendete qua sotto E niente Avete trovato l'incantesimo Quindi ragazzi Grazie a tutti per questa visione Lascia like se il video ti è stato utilissimo Iscriviti al canale Perché noi Continueremo a fare video Su Elden Ring Finché non se lo dimenticheranno Le persone E niente ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao Noi ci vediamo Noi ci vediamo